ehi ciao a tutti ragazzi appunto in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere qui questo nuovo recupero ed è notte prima degli esami oggi il secondo capitolo del seguito di notte prima degli esami film che devo ancora recuperare entrambi sia il primo che questo il secondo devo ancora vederli qui c'è il laterale notti prima degli esami oggi qui abbiamo il retro con delle con la trama alcune immagini dei protagonisti però non trattene il film ma di loro porta it di loro contenuti speciali audio dolby digital 5.1 andiamo a vedere l'interno qui abbiamo la selezione dei capitoli e qui abbiamo il disco e niente ragazzi metti di piace commentate iscrivete al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti